Tre start-up per guadagnare con i propri dati personali. Buongiorno e benvenuti al caffettino. Oggi parliamo di dati e parliamo di dati personali, ma non nell'ottica privacy, ma nell'ottica guadagno, perché stanno arrivando sul mercato sempre di più delle società, delle start-up innovative che lavorano sulla monetizzazione dei dati personali. Ecco come funzionano? Ne vediamo tre. Il primo che vi consiglio è MINE. La stella nascente dell'ecosistema israeliano delle start-up si propone di andare a leggere tutte le nostre mail, su Gmail, su Hotmail, sulle nostre piattaforme. E che cosa fa? Va a trovare tutti i siti a cui siamo iscritti, che probabilmente ci siamo dimenticati. L'articolo che vi sto leggendo di Wired dice 9 volte su 10 ci siamo dimenticati di esserci iscritti a questi siti. E quindi MINE ci presenta l'elenco, tutte le informazioni, che cosa hanno, che cosa non hanno, e si propone di inviare una bella mail per farci rispermiare tempo e chiedere la cancellazione a questo punto di tutti. E quindi insomma siamo belli e tranquilli di non avere più ricezioni di mail indesiderate. La seconda è Weepall, che ci permette, è un'idea italiana della start-up milanese Oda, ci permette di guadagnare anche qualche soldino sfruttando la GDPR. E come funziona? Ci iscriviamo chiaramente e questo sistema cerca clienti e aziende interessati ai nostri dati, sempre segmentati, ma chiaramente sempre in forma anonima. In questo modo le aziende non smettono di guadagnarci, ma anzi trovano un pubblico sensibile alle loro offerte e noi otteniamo un piccolo compenso senza perdere il controllo dei dati. Anche qua si parla di una grande opportunità, ma chiaramente con di mezzo il GDPR. E la terza è Generate, fondata dall'ex direttore marketing di Red Bull Sam Jones. Generate funziona con l'estezione del browser, quindi Chrome o Firefox, e permette di farci guadagnare guardando le pubblicità online. Però chiaramente utilizza i nostri dati, quindi va a capire, ci fa vedere le pubblicità ad hoc e insomma ci può scambiare prodotti, buoni Amazon, insomma lo trasformare in denaro per beneficenza. Il ragionamento è un po' quello della vecchia generazione, diciamo così, del web, ma con in più chiaramente i nostri dati. Articolo che potete trovare su Wired, perché le tre startup per guadagnare con i propri dati è un articolo di Eugenio Spagnulo. È chiaro, stiamo innovando, stiamo modificando, stiamo facendo, eccetera, eccetera, ma insomma torniamo a riutilizzare le vecchie startup di una volta che ci servivano per guadagnare, ci sarebbero servite per guadagnare dei quattrini con i nostri dati, ma in una salsa GDPR, in una salsa nuova, in una salsa anche di utilizzo dei propri dati in maniera più consapevole. Ricordiamoci però che i dati importanti non sono nome, cognome, email o data di nascita, che chiaramente quello del 2020 non hanno più così tanto valore, ma sono i dati predittivi di acquisto, gli interessi, i comportamenti, cioè tutto quello che in qualche maniera ci può lasciare traccia per un ipotetico acquisto futuro. Mi raccomando, se pubblicate qualcosa online sappiate che rimane sempre, invece se ve lo tenete in tasca sul vostro computer e non ne parlate con nessuno, forse è meglio, rimane a voi. E con questo concludiamo anche il caffettino di oggi, vi ricordo il mio sito www.mariomoroni.it, mi raccomando, fate un bel like, condividete questo podcast perché è anche d'estate, anche ad agosto siamo qui pronti in partenza via e vi trovo anche nel canale Tegra, Mario Moroni Canale. Noi ci sentiamo domani, fate i bravi!